Benvenuti a tutte e tutti, grazie dell'invito all'Istat e agli organizzatori di questa sessione della conferenza, Marina Gandolfo e Monica Scannapieco, saluto i relatori e partecipanti alla sessione. Il titolo della nostra sessione è Sistemi moderni di integrazione dei dati all'interno della linea tematica La statistica nell'era della digitalizzazione. Riorganizzare la conoscenza in modo sempre più efficiente è l'obiettivo di fondo identificato da alcune avanguardie della ricerca da quasi un secolo. Negli anni 50 all'avanguardia c'è stata soprattutto l'industria militare e successivamente anche il commercio internazionale. Oggi i processi di digitalizzazione interessano l'intero sistema di produzione di beni e servizi come anche sempre più i modelli di consumo. Siamo qui per riflettere sulla digitalizzazione della statistica ufficiale, della informazione statistica per il Paese e in particolare per approfondire in diverse direzioni un elemento fondamentale. Quello della integrazione sistemica dei dati, in modo moderno, ossia sfruttando pienamente le tecnologie digitali e tutte le opportunità che offrono queste tecnologie sul piano della raccolta e organizzazione dei dati, dei processi di produzione e soprattutto di restituzione agli utilizzatori e la centralità della integrazione dei dati sappiamo bene che è strettamente collegata alla crescita della quantità di dati, dovuta soprattutto proprio alle tecnologie digitali. Dati in parte legati a fenomeni inesplorati e in parte detenuti da grandi società private che non fanno parte dei sistemi statistici nazionali. La cresciuta disponibilità e interesse nei dati offre opportunità straordinarie e rischi significativi. Le opportunità per la statistica ufficiale sono l'implementazione di processi di produzione più efficienti e tempestivi e soprattutto più efficaci attraverso la restituzione agli utilizzatori di letture integrate, anche non standard, capaci di fare luce sulle determinanti, le conseguenze dei fenomeni di interesse. E poi lo sfruttamento del patrimonio dei dati di ogni pubblica amministrazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei cittadini. I rischi maggiori sono la perdita di rilevanza delle agenzie pubbliche nazionali per l'affermarsi di altri produttori privati, i rischi per la sicurezza e la privacy, oltre al rischio nella perdita di fiducia nella statistica ufficiale dovuta al marasma dei dati, specialmente sui social media. La sessione prevede quattro interventi, il tema della integrazione dei dati affrontato in diverse direzioni, sia con riferimento ad aspetti tecnologici, sia con riferimento alle implicazioni sul piano della organizzazione, della produzione e della diffusione delle statistiche ufficiali. Nella presentazione di Roberta Radini, Marco Di Zio e Giulia Vaste sarà al centro il sistema integrato dei registri statistici realizzato dall'Istat. Una infrastruttura poderosa che ha implicato un importante investimento tecnologico, un impatto sia sul piano dell'organizzazione, delle competenze, che implica un investimento continuo per il suo sviluppo. Le due presentazioni di Ram Vanderbom e di Valerio Santarelli, Monica Scannapieco e Daniela Casale riguardano tecnologie abilitanti, lo scambio e l'uso integrato dei dati. Nel primo caso la virtualizzazione, che consente il superamento dei luoghi di conservazione dei dati e la loro fruizione congiunta, minimizzando i trasferimenti e i costi di gestione. E nel secondo caso l'introduzione delle ontologie, che consente la ricerca e fruizione dei dati da parte degli utilizzatori sulla base del loro significato intrinseco, bypassando la conoscenza della loro collocazione tra i dati diffusi e le specifiche classificazioni attraverso le quali sono descritti. La interoperabilità dei dati della pubblica amministrazione è al centro della presentazione di Emanuele Baldacci, la funzione di Data Steward che faciliti lo scambio d'uso congiunto dei dati prodotti dalle pubbliche amministrazioni, che è oggetto di approfondimenti e promozione da parte delle istituzioni statistiche internazionali, Eurostat, UNC non solo. D'altra parte un maggior sfruttamento del patrimonio pubblico dei dati, superando le logiche proprietarie, rappresenta da sempre un obiettivo del nostro sistema statistico nazionale. E allora la parola ai relatori, 18 minuti ciascuno, in modo da poter fare qualche commento finale. Il titolo della prima presentazione è il sistema integrato dei registri dell'ISTAT, un sistema di dati integrato al servizio del Paese. Gli autori sono Roberta Radini, ricercatrice della direzione centrale per la metodologia, disegno dei processi statistici, responsabile del team che si occupa di definire le ontologie e l'architettura informativa del sistema integrato dei registri. Marco Dizio, ricercatore che coordina l'iniziativa sul sviluppo di metodi per il trattamento e la valutazione dell'incertezza dei dati integrati. E Giulia Vaste, ricercatrice della direzione centrale per le tecnologie informatiche, che coordina la progettazione e realizzazione dei sistemi a supporto della produzione dei registri. Presenta Roberta Radini. Prego. Grazie professore. Salve a tutti. Vi presenterò il progetto del sistema integrato dei registri, come ci ha introdotto il professor Alleva. Come dicevo, presenterò il sistema integrato dei registri, lo stato di avanzamento di realizzazione di questo progetto e tutte le sue soluzioni architetturali adottate dal punto di vista dell'informazione, della metodologia di integrazione di stima e rispetto all'architettura tecnologica impiantata. Il sistema integrato dei registri è un sistema di registri statistici che centralizzano e integrano i dati derivanti soprattutto da fonti amministrative, ma anche da indagini statistiche. È formato da un insieme di registri che consentono una gestione unitaria delle diverse tematiche di analisi e di indagine dell'istituto consentono un'integrazione concettuale, statistica ed anche fisica di questa informazione relativa ai tre grandi temi presenti nelle informazioni, ossia quelli relativi alla popolazione, alle unità produttive ed economiche e del territorio. Inoltre il sistema tratta e mette a disposizione anche le relazioni che ci sono tra questi tre grandi temi e per questo possiamo dire che parliamo di un sistema di informazioni. I registri che compongono il sistema integrato dei registri sono stati classificati in due macro blocchi. Parliamo di registri base, tutti i registri che contengono le unità statistiche di analisi che sono caratterizzate da variabili che diciamo core, ossia invariabili, invarianti nel tempo ed altre invece che sono soggette alla dinamica temporale. Facciamo l'esempio per la parte relativa agli individui e consideriamo variabili core le variabili demografiche, anagrafiche scusate, mentre quelle soggette alla dinamica possono essere la cittadinanza piuttosto che il luogo di residenza. Ai registri base si affiancano invece dei registri che definiamo satellite nel senso che sono registri che ampliano il livello informativo dei registri base. Lo ampliano o rispetto a delle specifiche popolazioni o sottopopolazioni, in questo caso parliamo di registri estesi, oppure rispetto a delle tematiche specifiche, ad esempio il registro tematico del lavoro tratta le relazioni lavorative degli individui e delle unità economiche presso cui lavorano. Il sistema integrato diciamo che viene da un'esperienza lontana nel tempo. Già dal 1996 in Istat è stato creato il registro delle imprese Asia, a cui negli anni seguenti sono stati affiancati altri registri che sono stati poi formalizzati in quello che adesso chiamiamo il business registers. Sulla base di questo insieme di registri nel 2011 è stato condotto il censimento permanente dell'industria e servizi. Negli anni a seguire sono stati creati altri registri che si affiancarono a questi e nel 2016 nasce invece il progetto del sistema integrato dei registri che nel bienio seguente impianta i due registri mancanti che erano quello relativo ai luoghi e agli individui a cui nel 18-19 si affiancarono altri registri e la composizione delle relazioni tra di essi. Nel 2018 invece viene lanciato il censimento permanente della popolazione che si basa sulle informazioni e sui dati forniti dal sistema integrato dei registri. Nel bienio a seguire il sistema si è arricchito di altri registri fino ai giorni nostri in cui stiamo completando altri registri diciamo di tutti i satelliti e quindi possiamo dire che il sistema integrato dei registri è la realizzazione di quello che era uno dei progetti cardine del programma di modernizzazione risponde all'esigenza di centralizzare l'informazione organizzata in registri per uniformare e rendere disponibile un'integrazione concettuale e statistica di tutte le unità e di tutte le analisi anche trasversali e longitudinali di interesse dell'istituto. Inoltre ha consentito anche di realizzare una standardizzazione del processo di costruzione dei dati dei registri e con essi della produzione delle informazioni necessarie alle linee di produzione dell'istituto. La parola chiave è integrazione. L'integrazione è stata realizzata sotto diversi punti di vista diciamo sotto il punto di vista metodologico, statistico ma anche architetturale dei dati e dell'informazione oltre che naturalmente tecnologico. Parliamo di un'integrazione concettuale che consiste nell'aver uniformato metodi statistici di integrazione ma anche di gestione della qualità dei dati, dei registri aver creato un'armonizzazione dei dati ma anche della concettualizzazione di tutte l'informazione all'interno del sistema e l'aver creato anche delle strutture dei dati che consentissero questa fruizione dell'informazione da diversi punti di vista. A questo si è affiancato poi anche un'integrazione logico-fisica nel senso che le unità statistiche dei vari registri sono collegate da chiavi univoche che consentono un'integrazione fisica dell'informazione oltre ad aver realizzato anche delle elaborazioni di integrazione dei dati uniformi rispetto a tutti i registri che compongono il sistema. Diciamo che un ruolo essenziale in questa integrazione è stato ricoperto dalle ontologie non vi darò il dettaglio di questo strumento o comunque di questa modellazione perché ne parlerà a seguire l'ingegner Santarelli dell'Università La Sapienza di Roma e le ontologie nel sistema integrato sono state utilizzate appunto per avere un'integrazione a livello globale di tutti i concetti del sistema mapparli sui dati e consentire un accesso trasparente all'informazione all'utente senza che questi debbano necessariamente conoscere la struttura e la dislocazione dei dati controllarne la qualità sostanzialmente sono uno strumento per avere una semantica condivisa all'interno di tutto il sistema il sistema in questo momento sta fornendo informazioni e strutture dati che vengono utilizzate per la costruzione delle liste di campionamento per i censimenti ma anche per le indagini campionarie fornisce anche la stima da registro e il riporto all'universo delle indagini campionarie inoltre rappresenta un'infrastruttura di dati e informazioni utilizzate dai sistemi di diffusione dell'istituto rispetto al SIR si stanno avviando anche altri progetti ad esempio come il Registers Analytics Framework per la creazione di nuovi output statistici integrati che vadano a coprire aree di esigenze informative che al momento non sono coperte dalle linee di produzione tradizionali dell'istituto vediamo come vediamo come gli output principali del sistema sono le stime da registro ovvero quantità stimate da conteggi diretti sui dati del sistema a queste sono collegate diciamo l'incertezza che necessariamente deve essere valutata questa incertezza diciamo è legata agli errori che possono essere presenti nei registri o nell'integrazione tra questi questi errori possiamo ne abbiamo elencati alcuni possono essere errori di copertura dei registri ossia unità elegibili che non sono incluse nel registro quindi una sottocopertura piuttosto che invece unità non elegibili che invece sono presenti nel registro quindi una sovracopertura del registro oppure errori dovuti alla misurazione ossia a delle differenze di misurazione di un fenomeno ottenute dal registro piuttosto che quelle che si possono evidenziare come valore vero differenze dovute ad esempio ai leg temporali che ci possono essere tra i dati dei registri e invece quelli che potremmo andare a rilevare sul territorio oppure errori di integrazione o possiamo parlare anche di errori di campionari perché alcune variabili sono costruite grazie alle indagini campionarie quindi passare alla stima da registri ci porta a cambiare il paradigma delle statistiche e a andare a lavorare a definire le possibili distorsioni di queste stime che sono a volte anche legate ai modelli che vengono utilizzati per ottenerle una delle mitigazioni o comunque della misurazione di queste distorsioni vengono proprio da misure condotte grazie ad esempio a indagini di controllo che appunto proprio per la loro indipendenza e la loro alta qualità consentono di misurare la distorsione o validare i modelli di stima ed anche suggerire diciamo delle correzioni della stima stessa ad esempio per il censimento 18-19 è stata condotta un'indagine detta reale quindi un'indagine di copertura che ha consentito di definire dei pesi che andassero a correggere le stime di popolazione rispetto appunto alle stime che ottenibili da conteggio diretto del registro base degli individui quindi l'utilizzo del sistema integrato dei registri ci sta portando appunto come abbiamo scritto a un cambio di paradigma nel senso che si passa da indagini supportate dai registri a indagini basate sui registri e invece supportate da indagini lo sviluppo in questo momento siamo coinvolti nello sviluppo di metodologie statistiche che valutino e trattino le eventuali incoerenze tra i registri ma ed anche che integrino e rendano coerenti i registri e le loro stime con i dati e le stime da indagine campionaria fin qui abbiamo visto come all'architettura diciamo metodologica e all'architettura generale dell'informazione del sistema integrato ai registri in realtà sottende un'architettura tecnologica che ha già come dire raccoglie una lunga esperienza che viene dai primissimi registri che sono stati impiantati ma che porta quindi ha portato questa esperienza nella realizzazione e nell'infrastrutturazione delle tecnologie che consentono di realizzare processi controllati monitorati e in generale automatizzati abbiamo usato per rappresentare il lavoro che si sta facendo nell'impianto dell'architettura tecnologica questa similitudine della costruzione di una macchina in realtà l'ingegnerizzazione consiste nel comporre tutti i componenti che costituiscono il processo di costruzione e di alimentazione di ogni singolo registro ma anche poi la sua integrazione con tutti gli altri dotando il sistema di cruscotti che consentono di monitorare i vari processi e l'individuazione anche di tecnologie assolutamente innovative perché come ci diceva il professor Aleva abbiamo una sfida grande e soprattutto un grande numero di dati quindi deve essere supportato anche da tecnologie innovative la realizzazione del motore del sistema il tutto corredato da interfacce utenti che consentano il monitoraggio la visualizzazione di indicatori di qualità e l'accesso agevolato o assistito ai dati tutto questo costituisce un'esperienza che in questo momento possiamo dire che ci ha consentito di realizzare delle linee guida che ormai applichiamo in modo standard alla creazione di ogni nuovo registro o nuova componente dei registri potremmo dire che il completamento dell'industrializzazione del sistema integrato dei registri comprenderà anche l'inserire l'immergere il sistema integrato dei registri in un'integrazione con tutti gli altri sistemi presenti in istituto ad esempio il sistema di documentazione o di gestione dei metadati piuttosto che quello di trattamento e di gestione della privacy attraverso il registro dei trattamenti o i sistemi di acquisizione delle fonti amministrative automatiche il completamento del progetto vedrà probabilmente un tempo medio-lungo ma in realtà il sistema è già come avete visto composto di tanti pezzi che nascono avendo in mente il progetto le linee guida del progetto e quindi ogni pezzo è già inserito in quello che poi diventerà l'ecosistema completo del sistema integrato dei registri i contenuti sono stati tanti forse li ho raccontati in modo molto veloce volevamo raccontarvi molte cose vi lasciamo i nostri riferimenti per chi fosse interessato a avere informazioni aggiuntive grazie molte alla dottoressa Radini che possiamo passare alla seconda presentazione il titolo è la virtualizzazione dei dati per integrare dati a Statistics Netherlands autore Ran van der Boom program manager del CBS Statistics Netherlands che presenta please the floor is yours ok thank you thank you professor and thank you for the opportunity to tell something about what we are doing at Statistics Netherlands or CBS on the modern data integration systems and we like to call it data integration or data virtualization and I will explain some of our struggles we have in achieving that but it's a very promising development for the needs we have at the Statistics Netherlands and also I can tell you something about the secret ingredients we have to make this work so well well according to Wikipedia data integrations involves combining data residing in different sources and providing users with a unified view of them and that sounds very good but then again what does it have to do with what our problems are we need to describe phenomena we need to increase the efficiency we have a lot of challenges to implement all these innovations and how is data integration and data virtualization is going to help us well I try to explain in the next few slides try to explain why we need it what it's about how we try to implement it and the lessons we have learned so far and also I try to explain something about our secret ingredients well there are several external drivers for us to make this change there is an increasing demand of our statistics we are in the news almost every day we also need to describe phenomena and we have for instance on the right you see a dashboard with all kinds of figures and well nowadays COVID is very in the news so we have developed a dashboard for measuring all kinds of side effects of this crisis also this has a very high impact not also on the health but also on society on a division social division on economic situation well there is a lot of things to be explained also we need to increase the role of our institution as data partner for the government because we now see that there is a lot of data going around and there needs to be some institute with a respected name for being that data partner and we like to be that data partner this requires trust data faster time to market we need to accelerate the speed in which we produce our statistics we need to work data driven and we need to collaborate a lot but there are also internal drivers of course the previous drivers lead to innovation on the internal processes and we need to connect to new data sources internally and externally internal processes need to become more efficient we need to access more sources and it needs to become more effective so that we can understand the data better than we used to do this requires quite a lot of innovations at our institution we have introduced silos for data that is in rest in interfaces and this helps us to unravel data on the move which is not ready for the next step and data that is ready for the next step so we have made a division in this in this data storage also we'd like to avoid stuff pipes and we need to combine data sources from several statistics with each other and that requires data driven instead of process driven and we need more options for gathering external data sources which is both flexible and standardized which is kind of a contradiction if you think about it well the ideal situation we have one database or one type of database and that holds everything fits in it but you know this is not going to happen this is really not going to happen the types of data vary a lot the size is nowadays huge and there is no ideal situation in which everything fits so you can forget about it well then we thought well we got data stored everywhere in islands as you can see these are the islands on top of the netherlands in the north of germany and we thought well we've got data stored everywhere and let's connect them to each other but no it's not also not going to happen unfortunately we have data stored in several islands but they're not connected in the way we wanted and even some of these islands are missing so we got a sort of incomplete situation when it comes to data and when it comes to describing this data with metadata so on the left you can see how we have separated these data and rest points with the processes that run between them we start with external sources and surveys which enter our institute as raw data and then in several steps they become published data so but if you think if you look at the way we have organized it then we've got some of this data in a central place for instance the third interface process data we got that stored in the data service center but not everything we got published data stored in start line now not everything so it's not really going to work and I looked about it and in 2012 someone was already busy trying to figure out whether data virtualization could be a solution for this problem for the fact that we have no overview of all this data and we have no connection so but 2012 that's well that's a long time ago already so how did we how did this work out well this is why we need to change because all the reasons I already mentioned we need to make things more efficient and more effective and we need to be able to share data but also we need to be able to share the metadata because else you don't know what's it about we need governance as in rules guidelines some sort of framework in which we operate and our secret ingredients are collaboration what's in it for me and adopt an agile approach to manage all these innovations and in the picture on the right you see that it starts with sharing data with on top of that metadata and then you need governance to glue it all together and please note it's a simplified picture because there is a lot of more things that can be explained but I won't do that for now okay then you also need products to manage these things and for the sharing data we chose the data abstraction layer product which called the nodo for the metadata we want a catalog including a taxonomy and we have not found a solution yet although we have developed our own classification system and for the governance we heavily rely on best practices which are already being developed inside our institute but also outside and then for metadata there's a lot of things that need to be investigated we already investigated we need metadata which is fit for purpose because else people say well we need to describe very much that's too much work therefore we are thinking about which patterns are underneath it what kind of maturity levels you have because if you have a low maturity level then you can describe lesser metadata than if you describe a higher maturity level we need several models for instance SDMX DDI and how can we compare and combine these models this all led to several requirements which we have used to figure out what kind of metadata management system we actually need but this is still in progress well then how are we going to realize that and first of all we need to work together with a lot of people people are first if you cannot collaborate in a proper way then it will not work because there's a lot of change going on we need knowledge about classifications about metadata about the data abstraction layer about the techniques that are underneath we need to set up new processes a new organization we need a service to facilitate this all and we need governance to glue it all together and on the right you see what kind of tools what kind of solutions we are thinking about we've got a metadata catalog and a search engine which combines the taxonomony the classifications code lists and other metadata and sources several sources can be how do you say used using a data abstraction layer and also in terms of change management we have a lot of different types of approaches to make this work change management agile approach project management step by step well you need a lot of different types of ways to get this thing working and then the strange thing is when we talk about a data abstraction layer well it's not abstract at all which is kind of strange because on the right you see that for instance through MSXS you can retrieve data from the data abstraction layer and on the right you see a catalog screenshot how to design a view which is actually very much like designing a joint statement in a SQL environment so it's really hands-on it's not abstract at all you use one standardized method of accessing the data you can create the data set runtime so you don't need to have several copies lying around waiting for use now you create them at runtime you got the overview of all data sets and doesn't matter where the data set is located or what shape it is it looks the same from the perspective from the data abstraction layer also there are some disadvantages it's technical very advanced and for instance we now work on the combination of the node and cloud foundry I won't go into the details but it's well it's hard work sometimes and you use the source system for the query so database which is heavily used in production and you also use it to distribute data well then perhaps you could better use a copy of the source or the database but that's all you can all fix these things well then the lessons learned so far well then in terms of strategy you see certain levels of maturity for data integration and of course we at statistics netherlands we pretend that we are at a very high level but really it's not a dolce vita it's well in fact we are at the bottom we are still busy with creating an overview of the datasets of course we got a lot of well described datasets but if you don't have a foundation with an overview of datasets then you can really not use it enough for explaining phenomena for automated validation for resolving inconsistency so we really need the tools and the foundation to go one step further in the maturity level and then finally we hope that's within a couple of years we hope to achieve that we got standardized harmonized through metadata method driven processes to be able to share data to automatically generate datasets based on metadata and also to automatically give answer to questions for instance on a website you can ask what about horses and then we hope to automatically answer this question but you really need your data in a combined way you need metadata well described well this takes a lot of internal discussions to standardize it takes years and resources and well it's not very easy well we had several challenges first of all we introduced the concept of a data abstraction layer and everyone thought well so what's in it for me so we had to really find where to apply it also we had a lot of new things to learn and it was a challenge how can we introduce this knowledge then also governance it looks a simple idea to set up guidelines but in fact we had a very heavy discussion one said well we need autonomy to do everything we want and then the other said well we have to maintain it and we have to be able that it runs stable so we need stability and it led to a huge discussion oh you want control no we want anarchy so well this is really very hard work to bring all the parties together also we had a lot of innovations going on at the same time so and that is the question where do you focus and also well I don't know how it's about in Italy but agile somewhat of a hype in the Netherlands but it's not really going to work for the complete picture for some parts it's really useful but not for all so that's why we come up with several solutions and success factors for that well we need support for management that really need to want it we need one goal one business owner to manage this all and what we did is we found the opportunities for instance there were several teams that had distribution problems if you have very many variants of data sets so we could offer them this solution also we have heavy consumers for instance national accounts and also the statistics that runs large companies well they need an overview of all data so and we found them and they really want to use it because they see this is a solution for our problem also we want to create show cases so that everyone can see even outside the people using it but also people that are interested can I click on it you can immediately see what's happening we introduced the training we hired external expertise and we also reduced the number of innovation which is very hard because you have raised a child and you have to set it aside that's how we try to manage things and also we are introducing service owners to implement data sharing and metadata management because we really needed a more strong grip on these changes well that's about my story I guess thank you very much grazie for the attention thank you for the opportunity well I hope everything is clear certamente grazie molte mister van de bom possiamo passare alla terza presentazione il titolo è l'uso delle ontologie per la governance e la pubblicazione dei dati gli autori sono valerio santarelli assegnista di ricerca del dipartimento di ingegneria informatica automatica gestionale della sapienza all'università di roma monica scannapieco dirigente del servizio architettura integrata dei dati e dei processi dell'istat della direzione centrale per la metodologia e l'architettura dei processi statistici e daniela casale dirigente del servizio sviluppo e gestione tecnologia a supporto dei registri e delle basi dati della direzione centrale per le tecnologie informatiche dell'istat presenta Valerio Santarelli prego grazie grazie a tutti salve e allora procedo con la condivisione dello schermo tanto ringrazio dell'opportunità di parlare di questo progetto che stiamo portando avanti con l'istituto volto a sfruttare le possibilità che ci danno le ontologie per l'ottimizzazione della governance all'interno dei registri del SIR io sono Valerio Santarelli sono un ricercatore dell'Università della Sapienza di Roma e sono anche il direttore tecnico di Ubidia Systems startup innovativa appunto dell'Università della Sapienza procedo con la condivisione dello schermo a questo punto ok allora durante questo intervento parlerò innanzitutto di questo progetto e di quali sono le tecnologie che stiamo diciamo mettendo in campo per sfruttare le ontologie per la data governance in generale a 360 gradi nei registri del SIR parlare dei vantaggi e dell'architettura di questo diciamo approccio alla data governance che stiamo portando avanti e come concretamente questo si sta sviluppando all'interno dei registri del SIR proprio come integrazione a livello concentrale dei dati e anche dei metadati gestiti all'interno dei registri allora questo progetto nasce da una collaborazione tra l'istituto tra l'ISTAT quindi tra la Sapienza Università di Roma e tra Ubidia Systems che come dicevo è una startup innovativa di Sapienza che nasce cinque anni fa ormai da un gruppo di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Informatica sotto la direzione del professor Maurizio Lenzerini il nostro gruppo di ricerca si occupa da diversi anni ormai in generale della gestione dei dati dell'intelligenza artificiale e in particolare nell'ultimo decennio diciamo la nostra attenzione si è maggiormente spostata sulla rappresentazione e il ragionamento automatico della conoscenza e sulla conoscenza e quindi alle tecnologie semantiche in particolare quindi all'utilizzo delle ontologie o del knowledge graph che sono due termini abbastanza interscambiabili per effettuare quindi tutta una serie di servizi legati alla data governance il SIR il sistema integrato di registri come abbiamo visto è appunto un sistema che vuole centralizzare e integrare i dati che arrivano dalle diverse fonti amministrative e dalle indagini statistiche che l'ISTAT porta avanti e il diciamo il macro obiettivo di questo progetto è migliorare l'informazione che viene diciamo erogata dai sistemi dal sistema dei registri statistici grazie innanzitutto all'integrazione dei dati e poi a garantire una maggiore qualità del dato e questo obiettivo lo stiamo perseguendo attraverso il censimento la modellazione e l'integrazione di tutto questo patrimonio informativo di dati e metadati attraverso le ontologie in particolare le ontologie nel contesto di una tecnologia che si chiama ontology based data management che è un approccio innovativo che è un approccio diciamo corredato anche da una serie di strumenti alla gestione dell'informazione che noi come BDA Systems e come Sapienza sviluppiamo e abbiamo sviluppato nel corso dell'ultimo decennio e adesso proponiamo prima di calarci nelle attività che stiamo portando avanti nel SIR volevo introdurre rapidamente questa tecnologia l'ontology based data management in particolare stiamo parlando di un paradigma che si basa sulla governance quindi sull'accesso sull'integrazione sulla modellazione di sistemi informativi aziendali quindi di tutti i dati contenuti in questi sistemi sia dati che metadati attraverso l'ontologia dove l'ontologia in sostanza è un modello concettuale unificato diciamo di alto livello quindi astratto rispetto alla struttura fisica dei dati di un dominio quindi in particolare dei suoi dati dei suoi metadati che lo descrive da un punto di vista semantico in modo formale e e anche da un punto di vista diciamo sintattico perché rappresenta anche come il dato dovrebbe essere strutturato e l'idea chiave dietro a questa tecnologia è che la governance dell'informazione quindi l'integrazione l'accesso le verifiche di qualità del dato vengono in qualche modo effettuati erogati attraverso questo modello ontologico questo modello concettuale utilizzando il linguaggio di business aziendale quindi è una forma di gestione dell'informazione che si avvicina maggiormente all'utente perché è proprio svolta utilizzando il linguaggio di business vediamo un attimo più nel dettaglio cosa cos'è un'ontologia abbiamo detto che è un modello concettuale del dominio di business di una di un'azienda e in particolare le sue caratteristiche principali vediamo qui sulla sulla destra un piccolissimo esempio di una possibile rappresentazione di un modello ontologico e le sue diciamo caratteristiche principali sono che è orientato all'utente perché appunto offre una visione del patrimonio informativo che è quello del dominio di interesse non quello diciamo interpretato attraverso la lente delle applicazioni informatiche che gestiscono il dato diciamo mira a rappresentare in modo fedele rispetto a realtà il dominio in cui si sta agendo d'altro canto viene espresso attraverso un linguaggio formale che quindi è masceride quindi può essere utilizzato diciamo a runtime a query time anche da sistemi informativi che possono ragionare su di esso per erogare i servizi di qualità del dato da un punto di vista diciamo espositivo può essere rappresentato come un diagramma come un grafo in tante diciamo modalità diverse qui ne vediamo un esempio e da un punto di vista di accesso al dato ha l'enorme vantaggio che semplifica la formulazione del requisito informativo che può essere appunto espresso attraverso il linguaggio quindi attraverso i propri termini del business aziendale quindi diciamo riferendosi all'entità del dominio e permette quindi anche una maggiore facilità di comprensione delle risposte da un punto di vista diciamo più tecnico può essere interpretato come un grafo che la costruzione dell'ontologia diciamo fornisce una condivisione dei concetti fondamentali di business e fondamentalmente ne permette la standardizzazione quindi si arriva alla costruzione di un glossario di entità e di metadati di queste entità in qualche modo condiviso all'interno di un'azienda o di un istituto questa costruzione di un modello unificato permette quindi di integrare globalmente concetti attraverso diversi domini diciamo questo è particolarmente significativo all'interno di un contesto come quello del Siri in cui ci sono come abbiamo visto tanti domini diversi che trattano dati molto diversi tra di loro quindi una integrazione di dati a livello diciamo in primis concettuale quindi che permette da un certo aspetto di superare un'architettura che tradizionalmente è a silos del dato mentre invece si va verso più un'interpretazione diciamo domain centric e più che application centric dell'informazione un accesso al dato quindi permettere di diciamo effettuare servizi di interrogazione di query attraverso l'ontologia che come abbiamo visto consentono di formulari requisiti in termini del linguaggio di business e questo diciamo gli aspetti formali del modello ontologico permettono l'esplicitare l'esplicitamento di diciamo processi di ragionamento automatico di un motore di reasoning o di AI sull'ontologia e che rende l'accesso del tutto fondamentalmente trasparente all'utente rispetto all'organizzazione fisica del dato ovvero quando si va a chiedere un'informazione il sistema si preoccupa di capire dove andare a reperire fisicamente il dato senza che l'utente ne debba essere necessariamente cosciente un altro vantaggio è quello di poter effettuare delle verifiche di qualità del dato e di data governance attraverso il modello ontologico quindi cablando all'interno dell'ontologia quelle che possono essere chiamate le regole di business definite che si possono diciamo estrapolare dal dominio e che quindi possono essere diciamo automaticamente inserite nel modello ontologico e quindi poi verificate possibile incrementali in qualche modo pesico nel senso che si può costruire un dominio nel tempo come stiamo facendo adesso e mappare i dati di conseguenza e quindi promuove una visione funzionale quindi dell'information management che valorizza quindi la prospettiva di business più che la prospettiva delle applicazioni molto rapidamente l'architettura di un sistema OBDM si sviluppa su tre livelli fondamentalmente il livello dei dati quindi lo strato dei dati che contiene appunto i dati stessi quindi come i dati sono organizzati a livello fisico nelle sorgenti dati dell'azienda il livello dell'ontologia quindi di questa descrizione formale del patrimonio informativo e uno strato di mapping che collega questi due strati quindi fondamentalmente va a esplicitare come sono collegati i dati nelle sorgenti fisiche con le entità dell'ontologia con questa architettura in piedi diciamo si possono erogare tutta una serie di servizi di gestione dell'informazione proprio attraverso l'ontologia ora quello che stiamo facendo adesso in collaborazione con l'ISTAT per il SIR è la costruzione dell'ontologia di tutti il patrimonio informativo gestito da questi registri in particolare fino adesso noi abbiamo diciamo analizzato i domini degli individui dei nuclei familiari dell'istruzione del territorio dove per territorio si tende fondamentalmente le unità amministrative e degli indirizzi e delle unità immobiliari e attraverso un processo che coinvolge sia diciamo noi come designer dell'ontologia sia un ruolo fondamentale gli esperti di dominio e diciamo gli esperti tematici all'interno dell'ISTAT abbiamo costruito un'ontologia che per il momento ha più di 400 classi ciascuna espressione di una particolare entità una particolare realtà del dominio di uno o più di questi registri per ciascuna di queste classi sono state definite appunto le sue caratteristiche fondamentali dove per caratteristiche si intende non legate a un singolo registro ma in modo diciamo organico e concettuale attraverso i vari registri abbiamo sviluppato come queste entità si collegano tra di loro e quali sono i metadati più importanti di queste entità e abbiamo diciamo mappato queste entità sulle sorgenti dati fisiche dell'istituto da un punto di vista proprio dei registri riprendendo lo schema che abbiamo visto in precedenza praticamente vediamo che abbiamo coperto il registro statistico base dei luoghi e quello statistico base degli individui e delle famiglie quindi abbiamo già concettuale di tante informazioni diverse di natura molto diversa tra di loro e la costruzione dell'ontologia del SIR fino adesso ci ha permesso già di raggiungere diversi obiettivi innanzitutto di unificare all'interno della visione astratta di alto livello che ci garantisce l'ontologia tutto il patrimonio informativo dei registri che abbiamo fin qui analizzato quindi proprio da un punto di vista concettuale le informazioni attraverso questi registri sono integrate tra di loro e possono essere viste dall'esterno dall'utente in modo organico ed omogeneo ci ha permesso poi di standardizzare i vocabolari e i termini proprio che vengono utilizzati che spesso nei vari registri nascono anche terminologicamente in modo diverso ma che noi abbiamo reso omogenei e quindi c'è una maggiore facilità di comunicazione sulle informazioni attraverso questi registri abbiamo sviluppato modelli ontologici per rappresentare proprio i dati statistici che ovviamente nel contesto di un progetto con l'Istat sono di assolutamente primaria importanza e abbiamo già iniziato a inserire all'interno del modello ontologico attraverso quelli che noi chiamiamo dei vincoli delle regole di qualità del dato che potranno quindi poi essere diciamo verificate sul dato fisico stesso nel corso diciamo della vita nel corso del ciclo di vita dei sistemi integrati dei registri e abbiamo cominciato a costruire delle query su queste ontologie per esprimere requisiti informativi sui diversi registri sia diciamo localmente al singolo registro sia attraverso diversi registri quindi siamo già in grado di poter permettere di fare tutta una serie di analisi cross registro diciamo che senza un modello unificato risulterebbero invece molto molto complicati volevo far vedere giusto un esempio di come avviene l'integrazione a livello concettuale di diciamo delle informazioni che sono gestite in registri diversi qui in particolare un'entità ovviamente molto molto importante è quella dei comuni ora il comune all'interno dei vari registri può diciamo assumere connotazioni diverse all'interno del registro dell'individuo ad esempio si parla del comune come il luogo di residenza di un particolare individuo nel nel registro delle unità territoriali il comune viene gestito proprio come una delle possibilità amministrative quindi con la sua storia con le sue variazioni con i suoi collegamenti con con altri tipi di unità amministrative territoriali quindi in questo in questo contesto si sviluppa e noi registriamo modelliamo l'evolvere nel tempo delle diciamo della vita di tutti i comuni del territorio italiano nel contesto invece degli indirizzi il comune viene inteso come il luogo di ubicazione di edifici di luoghi degli indirizzi stessi quindi il modello ontologico che noi abbiamo sviluppato di cui qui si vede una porzione si può anche in qualche modo intuire la complessità della rappresentazione di questi concetti permette appunto di riferirsi al comune come a un'entità ben definita ben modellata sia come informazione concettuale che come metadato ma allo stesso tempo sviluppare le sue relazioni con altre entità nel contesto dei diversi registri quindi abbiamo questo modello ontologico che ci permette di appunto di integrare proprio a livello astratto e di significato più vicino all'utente stesso questi tipi di identità questo è solo un esempio ovviamente ce ne sono molti altri potete immaginare in una realtà molto complessa come quella dell'Istat ora quali sono concretamente quindi i vantaggi che questa tecnologia è legata alle ontologie può dare nell'integrazione di vari registri innanzitutto bisogna considerare sia l'idea di costruire l'ontologia che di mappare i dati fisici sotto una volta messi in piedi questi due processi il primo vantaggio significativo è quello che si ha durante l'accesso al dato ho accennato brevemente prima ma fondamentalmente adesso noi siamo in grado di accedere ai dati e ai metadati del SIR direttamente facendo delle interrogazioni sul modello ontologico quindi in qualche modo esprimendoci nel linguaggio di business dell'Istat e il sistema sottostante prende in carico il processo di tradurre queste richieste in processi che accedono fisicamente alle sorgenti quindi non serve sapere in effetti come i dati sono organizzati l'accesso al dato è trasparente rispetto alla sua organizzazione fisica e inoltre sfruttiamo le tecniche di ragionamento automatico che possiamo mettere in atto sull'ontologia per essere certi che quando facciamo queste query avvenga una sorta di esplorazione completa delle sorgenti informative in modo da tirare fuori tutte le informazioni che sono rilevanti rispetto al requisito espresso altro servizio che è abilitato sul SIR è quello di verifiche di qualità del dato in un certo senso l'ontologia diventa un benchmark di qualità perché esprimiamo direttamente in esso i vincoli o quelli che possiamo diciamo pensare come regole di business dell'informazione quindi sono dei vincoli che dicono come si dovrebbero comportare i dati che sono afferenti a un certo dominio e attraverso delle tecniche di diciamo di ragionamento automatico siamo in grado di controllare l'integrità e la consistenza del dato rispetto a queste regole e ovviamente l'integrazione del dato quindi l'integrazione dei dati tra i vari registri attraverso un approccio che quindi è oltre che concettuale ma anche dichiarativo e incrementale quindi un accesso integrato proprio fisicamente al dato stesso e questo ci permette di avere già una visione integrata e semanticamente ricca del patrimonio informativo di tutti i registri fin qui sviluppati e inoltre diciamo per chiudere il modello ontologico ci dà anche modo di avere una progettazione concettuale più attinente al diciamo al reale dominio del della della realtà dei vari sistemi per costruire eventualmente nuove nuove sorgenti informative e la mappatura con i dati preesistenti e anche diciamo il modello ontologico ci permettono e ci guidano in un processo di bonifica e di migrazione in modo tale da essere più confidenti nell'affidabilità e nella qualità dei dati che stiamo stiamo proponendo e con questo chiudo l'intervento ringrazio tutti per l'attenzione e qui c'è diciamo il mio contatto per eventuali domande grazie a tutti grazie dottor santarelli passiamo alla quarta e ultima presentazione della sessione interoperabilità dei dati e ruolo della stewardship negli istituti nazionali statistica l'autore Emanuele Baldacci Director of Resources e CIO di Eurostat prego dottor Baldacci grazie a Giorgio Alleva per la presentazione è un piacere per me essere qui alla conferenza nazionale di statistica vorrei parlare di interoperabilità sotto un profilo particolare che è quello del ruolo degli istituti di statistica nel nuovo contesto dei dati in quello che viene chiamato ecosistema dei dati in trasformazione possono partire le slide grazie nella mia presentazione vorrei coprire brevemente il ruolo che questo nuovo ecosistema ha per le funzioni degli istituti di statistica nel mondo della statistica ufficiale e approfondire in particolare un provvedimento che è stato appena presentato dalla commissione europea il Data Governance Act che pone delle nuove funzioni nel mercato dei dati e offre anche agli istituti di statistica una possibilità nuova per svolgere il loro ruolo in un contesto nel quale la produzione statistica si arricchisce di fonti differenti e concluderò con un riferimento a un nuovo concetto che sta emergendo proprio grazie a queste nuove funzioni che è quello di Data Stewardship e che può essere interessante capire come gli istituti di statistica possano contribuire a svolgere questo ruolo di stewardship dei dati di conduzione di attività che sono finalizzate alla valorizzazione dei dati e al loro utilizzo innanzitutto il contesto nel quale ci troviamo lo posso citare molto velocemente perché sono cose note ma mi piaceva ricordare come queste piramidi che vedete sullo schermo si sono ribaltate si è ribaltata nel corso dei prossimi anni di questi anni e si ribalterà ulteriormente nel corso dei prossimi anni di che piramide parliamo? della piramide è legata sostanzialmente al modo con cui i dati vengono scambiati e processati e alla quantità di dati che vengono generati e analizzati nei nostri sistemi partiamo da una realtà dove la gran parte del data processing avviene all'interno di sistemi cloud quindi sistemi centralizzati con delle quantità di dati e dei volumi di dati importanti ma come mostrano le slide nel 2025 avremo una esplosione di dati che vengono processati per finalità diverse non solo per finalità statistiche ma con un ribaltamento tra la quantità di questi dati che vengono processati analizzati attraverso sistemi centralizzati come sono i sistemi cloud ed una maggior proporzione invece fino all'ottanta per cento di processi che avvengono attraverso la cosiddetta internet of things cioè attraverso un sistema decentrato e federato di oggetti che scambiano informazione e scambiano dati questo contesto è molto importante per la statistica perché consente di pensare a quali nuove fonti possono essere utilizzabili nei processi statistici e il contesto appunto che cambia pone anche all'interno della strategia europea dei dati il tema della condivisione dei dati e del riutilizzo dei dati e come vedete dalla slide ci sono diversi soggetti ma sostanzialmente è il settore pubblico i cittadini e le imprese che possono avere degli scambi di dati che possono essere finalizzati ai diversi utilizzi che questi soggetti fanno e quindi ad esempio nella statistica ufficiale quello che è molto importante è il concetto di B2G cioè di dati che vengono scambiati dal business al government quindi da qui B2G e che possono essere utilizzati per sviluppare ulteriori informazioni statistiche più granulari più tempestive e in generale coprire fenomeni che non sono attualmente catturabili nella loro completezza uno degli aspetti fondamentali della strategia europea dei dati che è stata lanciata alcuni mesi fa dalla commissione europea è che a sostegno di questo nuovo ecosistema ci sono una serie di regole che sono state definite o sono in corso di definizione e ci sono quattro strumenti normativi che sono in via di ultimazione che dovranno definire le nuove regole del gioco per far sì che i diversi soggetti che scambiano dati in questo nuovo ecosistema sempre più basato su una quantità notevole di soggetti e oggetti che possono scambiare informazione tra di loro che questo sistema possa essere utilizzato secondo regole chiare e che queste regole siano anche finalizzate in Europa a valori come quello della protezione dei dati e dell'utilità sociale degli scambi di questi dati che sono fondamentali per noi tutti questi quattro strumenti normativi sono il Data Governance Act che definisce le regole del gioco per gli attori che operano sul mercato dei dati il Digital Market Act che riguarda in particolare la regolamentazione dei dati utilizzati dalle piattaforme che offrono servizi un'implementazione della direttiva sugli Open Data che riguarda l'individuazione di dati del settore pubblico che hanno un particolare valore per le decisioni e che includono anche dati statistici ed infine il Data Act che riguarda le regole per lo scambio di dati tra business e government quindi tra settore delle imprese e settore pubblico e tra le imprese e le altre imprese quindi il B2B di questi provvedimenti normativi quello più avanzato è il Data Governance Act che prevede quattro pilastri è più avanzato perché c'è una proposta della commissione che attualmente ha l'esame del Parlamento e del Consiglio e questo Data Governance Act prevede come dire un funzionamento di nuovi soggetti che facilitano l'accesso ai dati in modalità sicure e nel rispetto delle regole per la protezione dei dati per favorire il riuso di questi dati con diverse finalità compresa anche la finalità statistica i quattro pilastri di cui parlavo che sono appunto parte del provvedimento riguardano il riuso le regole per favorire il riuso di dati sensibili e confidenziali da parte dei soggetti pubblici quindi di tutte le organizzazioni pubbliche un nuovo quadro normativo per la creazione o lo sviluppo di un mercato di soggetti che sono chiamati intermediari dei dati e che costituiscono il punto di raccordo tra la domanda e l'offerta dei dati e infine un quadro per regolare anche tutte le forme di condivisione dei dati sotto la forma appunto del cosiddetto data altruism cioè quelle modalità di condivisione di dati ad esempio personali su forma volontaria che possono essere interessanti anche per quanto riguarda il mondo della statistica tutto questo è coordinato da una governance che ha come obiettivo quello di garantire il buon funzionamento diciamo e l'implementazione di queste regole per i soggetti che ne fanno parte e la creazione di un consiglio europeo per l'innovazione dei dati che dovrebbe fissare anche le regole di interoperabilità e in questo senso il board di cui parlavo è molto importante perché può come dire essere uno strumento per gli studi di statistica per giocare un ruolo fondamentale in questo nuovo sistema di regole e di interdipendenza tra nuovi attori e vecchi attori nel mercato dei dati in particolare uno dei compiti del data innovation board è quello di fissare delle regole per favorire l'interoperabilità tra i dati e l'interoperabilità dei dati viene vista sia sotto il profilo tecnico quindi un'interoperabilità dei sistemi di dati che sono che esistono che possano favorire lo scambio di dati tra ad esempio registri pubblici database privati eccetera e anche le regole semantiche di interoperabilità che sono quelle che riguardano le definizioni i concetti le ontologie dei dati stessi questo per favorire cosa? per favorire la creazione di spazi dati europei comuni che sono individuati nelle documenti che accompagnano la proposta di Data Governance Act e che in particolare per i nove settori che vedete nelle slide definiscono questi nove settori come prioritari per la costruzione di un insieme di dati che abbiano delle regole interne di armonizzazione e standardizzazione ma che abbiano anche delle condizioni di interoperabilità che favoriscano l'integrazione e l'accesso a questi spazi dati da parte di diversi soggetti e in questo contesto il ruolo degli studi di statistica è fondamentale perché le regole di interoperabilità di standard le definizioni sono ovviamente anche quelle di natura statistica ed è molto importante che in questa discussione che avverrà nell'ambito dell'implementazione del Data Governance Act gli studi di statistica siano presenti e possano come dire portare il loro contributo in termini di interoperabilità semantica nonché di interoperabilità tecnica visto il grande lavoro che è stato fatto soprattutto da parte di istituti di statistica europei ad esempio per la condivisione di standard tecnici e semantici per quanto riguarda la statistica il ruolo degli studi di statistica è anche quello di contribuire ad arricchire questi spazi dati europei comuni nei diversi ambiti che ho segnalato prima come produttori di informazione statistica ma non solo questi spazi dati sono anche un ambito nel quale gli istituti di statistica possono considerare la possibilità di arricchire il patrimonio di fonti statistiche che vengono normalmente utilizzate per la produzione di informazione statistica quindi il concetto di data space offre delle possibilità sia per gli istituti di statistica di contribuire arricchendo l'informazione di questi spazi dati con le statistiche che vengono prodotte abitualmente ma anche quello di essere utilizzatori di questi spazi dati con le regole che presiedono appunto alla formazione della statistica ufficiale per la funzione che gli istituti di statistica normalmente svolgono che è appunto quella della produzione di informazioni in questo contesto è emerso sempre più una riflessione soprattutto in ambito europeo ma che si è ulteriormente allargata anche a livello globale ad altri istituti di statistica sul un nuovo concetto che è quello di data stewardship in particolare un rapporto della commissione europea di un gruppo di lavoro istituito dalla commissione europea sul cosiddetto B2G data sharing cioè sullo scambio di dati tra business quindi imprese piattaforme e settore pubblico aveva raccomandato che come conclusione di questo rapporto del rapporto di questo gruppo di lavoro che la funzione di data steward diventasse sempre più importante sia nel settore pubblico che nel settore privato e quindi è importante capire questo concetto che cosa identifica in termini di ruolo e come gli studi di statistica possono svolgere una funzione di data steward in particolare per quanto riguarda il contesto e l'ecosistema di dati che possono e fonti che possono essere utilizzate per la produzione di statistica ufficiale con metodi moderni di produzione statistica una task force del commissione economica europea delle nazioni unite sta lavorando sulla su una definizione che possa essere di natura globale e che riguardi appunto il ruolo della data steward applicabile anche agli istituti di statistica e questo come vedete nella slide è sostanzialmente identificato con una serie di ruoli che il data steward può avere come guardiano dei dati il termine inglese è guardianship che viene utilizzato e che fondamentalmente richiede una serie di funzioni e ruoli da sviluppare e implementare durante l'intero ciclo di vita di un dato dalla sua acquisizione fino al suo utilizzo la fondamentale funzione del data steward è quello di valorizzare tutte le fonti di dati che esistono per la finalità che il data steward e l'organizzazione che sta svolgendo questa funzione di data steward quindi nel caso degli istituti di statistica questo significa avere un ruolo di curatore delle fonti potenziali e effettive di dati che vengono utilizzate poi nell'ambito dei processi statistici e allargando come si sta già facendo il numero e la varietà delle fonti statistiche che possono essere utilizzate nei processi di produzione è chiaro che il ruolo di data stewardship si estende da quello di curatore della qualità dei dati che gli istituti di statistica raccolgono direttamente a quello di essere responsabile del disegno e della qualità degli archivi amministrativi che sono alla base dei sistemi di informazione statistica più moderni fino a identificare le partnership con i produttori di dati che provengono ad esempio da piattaforme o da fonti non tradizionali di informazione per favorire il loro uso all'interno dei processi statistici ovviamente modernizzati innovati attraverso l'utilizzo di metodologie avanzate tutto questo in rispetto delle normative di sicurezza e privacy e con un approccio che ha sempre come misura e benchmark la creazione di valore è molto importante che l'utilizzo e il riutilizzo dei dati venga sempre motivato dalla produzione di servizi e in questo caso servizi informativi per la popolazione in generale e per i decisori questo lo sottolineo perché come parte del ruolo di data stewardship c'è anche quello di creare dei sistemi che consentano di valutare i costi e i benefici di questi processi e quindi misurare anche concretamente il valore dell'utilizzo di dati in particolare di dati di fonti diverse e la loro integrazione per la funzione statistica e che ruolo quindi possono avere gli studi di statistica in questo nuovo contesto di cui parlo certamente un ruolo attivo per interpretare quale possono essere le potenzialità di un nuovo ecosistema in cui ci saranno diversi attori molti più attori di quelli che ci sono attualmente un contesto che cambia anche dal punto di vista normativo con la creazione di concetti attraverso il Data Governance Act come quello di Data Altruism e di intermediari dei dati con cui gli studi di statistica dovranno fare i conti in senso positivo cioè avere relazioni e partnership e in generale svolgere un ruolo più attivo del passato per quanto riguarda la definizione di standard di interoperabilità che possano essere utilizzati anche oltre la produzione statistica per facilitare l'accesso a fonti che possono poi essere parte dei processi statistici nel contesto della costituzione di spazi dati europei tutto questo ovviamente mantenendo però i principi fondamentali della statistica ufficiale che sono quelli di attenzione alla confidenzialità dei dati alla sicurezza dei dati e alla protezione dei dati nonché alla qualità dei processi quindi questo nuovo ruolo è nuovo nella misura in cui i soggetti con cui gli studi di statistica si devono interfacciare diventano molti di più e molto più complessi il quadro normativo si evolve il mercato dei dati e delle tecnologie che li generano e li processano cambia completamente ma rimane un ruolo fondamentale incentrato sulla qualità dei processi e la qualità dei prodotti statistici che gli studi di statistica hanno maturato nel corso del tempo e che ovviamente rappresenta il loro brand il nostro brand e che quindi non dobbiamo in questo contesto abbandonare semmai valorizzare per favorire la creazione di valore spero che con queste iniziali riflessioni possa sviluppare ulteriore attenzione a quello che sta succedendo a livello europeo sul quadro legale sul quadro legislativo il prossimo la prossima proposta normativa che la commissione metterà sul tavolo all'inizio del prossimo anno sarà quella del data act che avrà ulteriori regole che favoriranno un sviluppo di meccanismi di data sharing tra diversi soggetti in modalità sostenibili e sicure quindi è molto importante continuare a seguire questa evoluzione normativa e anche continuare a riflettere su quali sono le funzioni e i ruoli degli istituti di statistica in questo nuovo ecosistema grazie a conclusione di questa sessione credo di poter affermare che oggi abbiamo avuto buona notizia sul processo di integrazione dei dati e dei in atto presso alcuni importanti istituti nazionali di statistica e anche il quadro che ci ha presentato Emanuele Baldacci mostra che l'attivazione di questa nuova funzione di data steward si stia realizzando in maniera piuttosto diffusa in Europa come sempre la condivisione di sperimentazioni e esperienze di successo e di insuccesso indicano la strada e supportano le scelte degli attori dei servizi statistici nazionali il sistema integrato dei registri statistici dell'ISTAT sta avanzando nella sua implementazione e oggi rappresenta la spina dorsale del processo di produzione delle statistiche dell'ISTAT mi sembra che ci sia la consapevolezza che questa infrastruttura dovrà anche consentire l'attivazione di nuovi servizi al pubblico mi auguro presto come output non standard abbinando variabili da fonti diverse e attivando nuovi canali di accesso ai dati che diano valore al lavoro dell'integrazione così importante e in corso di realizzazione è bene anche che l'ISTAT stia progettando la comunicazione agli utenti di misure dell'accuratezza delle statistiche provenienti dall'integrazione di fonti diverse tenendo conto dei diversi tipi di errore nei nuovi ecosistemi che si stanno realizzando negli istituti e nei sistemi statistici nazionali una scelta strategica è se rendere limitato l'uso del sistema dei registri e consentire la diffusione dei soli output pianificati con un livello di accuratezza certificato o rendere più flessibili i sistemi consentendo agli utenti di produrre le proprie statistiche e optare per questa seconda soluzione renderebbe gli istituti più rilevanti per gli utenti ma li obbliga a implementare soluzioni per ridurre il rischio di uso errato dei dati e comunque credo che valga la pena investire in questa direzione sperimentazioni esperienza pilota sono fondamentali per gli utilizzatori disporre di viste su quadri integrati di dati indipendentemente da dove si trovino o da chi li detenga ma con la certezza che abbiano una qualità certificata magari definiti da loro stessi rappresenta davvero un sogno e l'accesso all'analisi self-service sarebbe davvero straordinaria le nuove soluzioni tecnologiche di virtualizzazione sono certamente importanti sarebbe interessante conoscere quale sia il loro impatto sul numero di richieste di accesso quindi il successo che hanno sul piano della rilevanza per gli utilizzatori e come impattino sulle questioni di privacy e di sicurezza l'introduzione dell'approccio per ontologie produce nuova informazione elimina barriere tecnologiche e come abbiamo visto implica un investimento in termini di lavoro molto importante e quindi credo che mostrare i risultati ottenuti sfruttando parti del sistema dei registri sia fondamentale per intraprendere questa strada con la necessaria convinzione in uno spazio di dati europeo interoperabile dove far convergere l'insieme dei dati delle pubbliche amministrazioni dei paesi dell'Unione Europea mi chiedo è un tema davvero importante mi chiedo se si pensa a una funzione di stewardship centralizzata molto qualificata che permetta e supporti gli scambi tra le amministrazioni attraverso quindi un sistema a stella oppure un network di queste funzioni per paese o gruppi di amministrazione il servizio di restituzione di informazioni arricchite è pensato centralizzato da attivare a seconda dei richiedenti ecco questo è un tema che mi piacerebbe discutere allora per la statistica ufficiale la sfida strategica è produrre informazioni statistiche di alta qualità garantendo tempestività glanuralità e tutela della privacy per la comunità degli statistici c'è un'altra sfida quella del mantenimento del principio ineludibile dell'inferenza statistica per l'analisi dei dati provenienti dalle nuove fonti integrate con quelle tradizionali rispetto al solo uso di algoritmi data driven e questo ruolo lo potremo mantenere solamente se impareremo a lavorare insieme alle altre comunità scientifiche interessate all'uso dei dati vorrei anche sottolineare che la trasformazione digitale dei processi di produzione e comunicazione delle statistiche ufficiali implica anche una trasformazione delle agenzie di produzione dei dati in istituzioni digitali quindi non solamente basate sui dati ma anche utente centriche multicanali collaborative aperte alle idee all'interno e all'esterno alla sperimentazione agili e trasparenti senza segreti in conclusione per realizzare sfruttare sfruttare pienamente vantaggi dell'integrazione dei dati la costruzione dell'architettura tecnologica deve essere sostenuta da processi di innovazione continua di carattere metodologico e organizzativo e gli istituti nazionali statistiche ne sono ben consapevoli e devono riuscire a coinvolgere in modo sinergico anche gli altri soggetti dei sistemi statistici nazionali ringrazio i relatori degli autori delle belle presentazioni e tutti i partecipanti un saluto a tutte e a tutti grazie grazie